11 leoni qui per noi, volano, sono i nostri eroi, sogna l'usale, entra la città, per l'urecce, brucia l'anima, e per l'urecce all'è. 12 leoni qui per noi, volano, sono i nostri eroi, sogna l'usale, entra la città, per l'urecce, brucia l'anima, e per l'urecce all'è. 2 leone, bell'urecce all'è, bell'urecce all'è, bell'urecce all'è, bell'urecce all'è. Ben ritrovati, eccoci in diretta con Pieleccio, secondo appuntamento di questo format, una seconda serata in cui sfidiamo nuovamente la Champions League con la convinzione di riuscire a batterla perché i veri tifosi di Lecce non vedono la Champions League. E anche questa volta abbiamo un tris di ospiti molto interessante perché come avete potuto vedere sui nostri canali social ci sarà alle 9.15 con noi Federico Coppitelli, allenatore del Lecce Primavera, 9.40 Alessandro Budel, Dazon, ex calciatore tra gli altri anche del Lecce, e alle 22 Matteo Dovelini Repubblica per parlare della Fiorentina. Saludiamo già chi è in diretta con noi, oggi come potete ben vedere abbiamo Andrea e Stefano. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Vi chiedo se siete carichi e se vede la Champions in background, non so come dire. Io no perché già ieri è stato abbastanza divertente vedere, anzi oggi più che altro leggere i giornali italiani, vedere quanto si siano lamentati dell'arbitraggio europeo sia delle partite del Milano che della Juve perché effettivamente ieri soprattutto il Milano ha subito un furto bello e buono in casa, però diciamo che la domanda è... vedete come ci si sente, come ci sentiamo noi... Ci sarebbe un detto salentino spiaccicato per una situazione del genere, però dell'Ujabu e via dicendo, però insomma avete capito. Ci fanno in diretta l'inno della Centros League, buonasera, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, visto che siete già molti, forse l'avete già visto. Per venire incontro a chi fa l'abbonamento, a chi ci sostiene, diamo due, una c'era già prima però un'altra agevolazione la diamo da adesso, ovvero solo chi è abbonato può rivedere le live indifferita, indiretta per tutti voi le vedete, chiaramente indifferita è un privilegio degli abbonati. Decisione di Filippo Verri, io comunque dico questa cosa, Filippo Verri è una decisione che fanno i grandi canali, giusta, una decisione giusta. Lo fanno i grandi canali, l'ho fatta io due giorni fa anche qui e sta già avendo successo. Un discreto successo. Un discreto successo. Adesso iniziamo a parlare di calcio, ciao ragazzi, grazie a tutti che ci state seguendo perché non me ne frega nulla della Champions. No Filippo, comunque io una cosa volevo dirti in riferimento alla Champions, così chiudiamo un attimo il discorso, no? Se hai visto il Napoli sta dando quattro roll a tutti. L'unica squadra, forse le uniche due, no? Perché non so se ha fatto qualche altro pareggio il Napoli, francamente, ma ora non lo so, penso di sì, non le ha vinte tutte in campione. Fiorentina, Lecce e Fiorentina. Ok, ok. Le uniche due squadre, a parte la Fiorentina, l'unica d'altra squadra che l'ha stoppato è stata il Lecce. Ha segnato dieci roll all'Ajax in due partite il Napoli, però noi, a basso i tiranni, verremo. Il rigore non c'era, allora Stefano, chiaramente torniamo sulla vicenda abitale perché adesso è una lista di giornata, Frontera e Banti restano a casa per il prossimo weekend di Serie A. Però io devo dire una cosa, per me l'espulsione non c'è in nessun paese del mondo, cioè è criminale per me dare quell'espulsione. Però ho visto sul sito della Lega, che ha dato un filmato differente rispetto a Dazon, l'episodio del rigore, e c'è il rigore, secondo me. Non posso mettervelo qui perché purtroppo il copyright ci distrugge, però ho visto un'altra inqualatura, a me su Dazon non sembrava rigore, io l'ho visto sul sito della Lega, c'è un'inqualatura che è rigore palese, però su Yorma non esiste. Allora, intanto sono felice della decisione di stoppare Frontera, anche se non so quanto è dovuta alle lamentele fatte dalla società, oppure se è comunque un turno di stop già programmato. In ogni caso, come diceva qualcuno da qualche parte sui vari social, lo stop di Frontera non ci riporta né un punto né tre, qualora mai li avessimo ottenuti. L'unica cosa che però mi preme sottolineare, ma l'abbiamo già detto anche nella live dopo la partita, il fallo di Yulman, come abbiamo detto, lì per lì non ha fiscato nulla. L'ha rivisto, il mio modo di vedere, anche per come è stato poi riportato nel reperto e come poi l'ha spiegato il giudice sportivo, il mio modo di vedere lì l'unica cosa che potevi fare è dare il giallo, perché effettivamente era il limite di un fallo grave a un fallo di gioco e basta andare avanti. Per quanto riguarda il rigore, io credo che lì siano stati polli, perché in realtà in Serie A, soprattutto i navigati, comunque quelli delle big, il pietro lo lasciano sempre. Poi possiamo parlare del fatto che, perché in Italia si danno questi rigorini? Perché purtroppo c'è una prassi consolidata che porta gli arbitri a fischiare anche questi piccoli falletti. Andrea mi ricordo che discuteva se Askelsen avesse toccato meno il primo all'inizio, perché poi dopo Ebram mette il piede sul piede di Askelsen, però io francamente dai filmati non riesco a capire se Askelsen lo tocca. Se lo tocca, secondo me lo sfiora. E sfiorandolo, un attaccato di un metro e novanta... Fa un movimento innaturale, Ebram, però in realtà furbo. Molto furbo, molto furbo. Lui se lo cerca, lui se lo cerca il rigore. Cioè questi qua, questi grandi attaccanti, comunque le big, durante la settimana lavorano anche su questo. Perché? Perché se tanto l'arbitro questi tocchetti te li fischia, cioè, e puoi lavorarci in settimana su questi movimenti, anche su come imposti il corpo nel ricevere la palla, tanti aspetti. Ovviamente bisogna lavorarci, è brava la Roma, appenersi questi rigorini, che secondo me, visto dall'esterno, questa cosa fa schifo. Però in realtà funziona così. Ho detto Stefano che comunque resta uno scandalo arbitrale per il quale lei ci si è fatto sentire. Sì, sì, però attenzione, rispetto a Monza, rispetto a Vattie di Monza, Vattie di Monza lì, era palese, ragazzi. Lo vedevi, lo rivedevi. Sì, però l'episodio dell'espulsione, l'episodio dell'espulsione... Sì, ma infatti, guarda, io ti do ragione sull'interpretazione. Però poi, come abbiamo scritto oggi, col pezzo di Filippo e Marco questa mattina, l'interpretazione lascia il tempo che le trova, nel momento in cui è lo stesso arbitro a decidere. Perché Banti, clamorosamente, io non pensavo sinceramente che un arbitro facesse due partite di fila, però a quanto pare, clamorosamente, stava anche a Bologna 24 ore prima. E c'è il frame di Orsolini che entra sul Rincon in maniera... E lì è un'altra dinamica, perché lì Rincon porta palla, quindi non c'è una palla contesa, ma Rincon porta palla e Orsolini entra col piede alto sulla gamba. Filippo, lo regge, mi se sbaglio, non viene manco ammunito Orsolini. Non mi ricordo, però sicuro Banti non si chiama l'apero, è già questa cosa grave. Quindi Banti che interpretazione dà a questi interventi? Oppure, siccome col Bologna non l'ha fischiato, poi con la Roma c'è il giorno dopo, si rende pronto e lo fischi. E poi Andrea, tra l'altro, c'è un episodio che è eloquente, perché sembra un po' un episodio uguale a quello avvenuto l'altro giorno con la Roma, perché a maggio, che poi viene fermato dopo questo episodio Banti, Banti, in un Fiorentina-Roma, segnala a Guida, che era l'arbitro se non erro, comunque al direttore di gara, lui segnala che c'è un rigore che l'arbitro non aveva visto, ma l'arbitro non aveva visto perché non c'era. Quindi anche questa volta, lui da VAR segnala un qualcosa nonostante l'arbitro avesse visto bene e influenza emotivamente l'arbitro perché dice, l'arbitro, giustamente come diceva Corvino l'altro giorno, dice, ma se Banti, che è in seriata a 15 anni, mi dice, questo secondo me è il rigore, questo secondo me è il rosso, vieni psicologicamente influenzato da questo. Soprattutto Prontera poi, soprattutto Prontera che è un ragazzo. Ringraziamo chi ha fatto l'abbonamento, Effemetro, Moniceggia, Antonio, Leus, Geranio, Aster, Gianfri, Gialeo, Daniela Venta e Paolo Giangrande, siete già tanti. No, io la cosa che non comprendo è perché ci sia questo miscuglio tra Serie B, Serie A, al VAR, si va a rotazione, non lo so, secondo me è ciò che vedi al VAR. Lui un arbitro non può fare due partite di fila, cioè in due giorni, una Bologna e una Roma, ce ne sono mille arbitri. Se vedi in qualche intervista rilasciata da Rocchi, si discuteva sulla penuria di arbitri di livello, ma in realtà in questo momento io sinceramente di livello, ne vedo pochi, e io vedo l'unico che sinceramente stimo è Orsato, perché almeno nel dialogo, perché poi gli errori ne commette anche lui, ma nel dialogo non è mai prepotente, non va mai oltre le righe. L'arbitro non è un giornatore che tu dici ha talento e poi è il talento di base. L'arbitro comunque lo devi formare, cioè può avere un talento da arbitrare, sì, ma l'arbitro va guidato e formato, quindi tu li devi saper formare da quando hanno 14, 13, 14 anni, fino a quando arriva. Anche perché partono dai pulcini e arrivano in Serie A, non ne le dici e gente che ha 17 anni sta in Serie A, e tutta la gente ne ha fatto un percorso, no? Quindi se c'è penuria e poca qualità negli arbitri, è colpa di chi li forma, non è nemmeno colpa degli arbitri, è un problema di chi li forma, perché l'arbitro lo formi, non nasce arbitro. Una persona può nascere un po' predisposta a fare quel mestiere, ma comunque poi lo formi. Poi tra l'altro col VAR, gli dai tutti i mezzi possibili e immaginabili per essere bravi, cioè per essere all'altezza. Ragazzi, cambiando discorso anche in maniera veloce, perché arriveranno gli ospiti, manca il Jurman alla prossima. Regista, per voi è scontato che sia Blen, oppure una percentuale su Bistrovic la lasciate? Paradossalmente, se voi dobbiamo mettere tutto in tavola, Beriscia, cioè se voi dobbiamo aggiungere tutte quante le leggi possibili. Perché tipo González o Askilson? Askilson l'ha fatto a Genova, a due l'ha fatto. Per me è un Blen-Bistrovic. O un cambio modulo, un 4-2-3-1? No, no, questa cosa no. Io sono più con Andrea. Non lo so, sai? Anche perché non so se avete notato, ma quando si è messo agli ultimi 16-17 minuti contro la Roma, a due, Askilson e Blen al centrocampo, io sinceramente ho visto un buon equilibrio. Perché Askilson l'ha sempre fatto a Genova a centrocampo a due. Lui è proprio centrocampista a due, quel qua fa la mezzala, ma è un centrocampista a due. Ragazzi, fermi tutti. Ne riguardiamo dopo, abbiamo il primo ospite di giornata e con noi l'allenatore di Lecce Primavera, Federico Coppitelli. Salve mister, buonasera, grazie per essere con noi. Salve, buonasera a tutti. Partiamo subito con la prima domanda. Le diamo del lei o ci... Noi abbiamo una grande informalità. Abbiamo una grande informalità. Quindi andiamo con il detto, dai. Io sono convinto che il mister un po'... non arrabbiato, però un po' rammaricato sia questa sera. Però se dobbiamo tirare il bilancio complessivo, la situazione per il Lecce Primavera è più che positiva, soprattutto se paragonata al passato, cioè alle scorse stagioni in cui l'anno scorso è stata acciuffata una salvezza all'ultima giornata per Miracolo e due anni fa si era in seconda serie. Quindi adesso, comunque sia, dopo sette giornate, se non erro, vedere il Lecce al quinto posto è una grande sorpresa ed è un grande piacere per chi lo segue. Lei come sta vivendo questa stagione? Abbiamo detto di darci del tuo. Effettivamente mi è scappato, però d'ora di poi andiamo col tuo. Allora, come hai detto te, secondo me abbiamo fatto un inizio in linea con quello che speravamo, ma non era assolutamente scontato, nel senso che al di là della giusta ricostruzione che hai fatto te degli ultimi due anni. Questo è un campionato talmente difficile ed equilibrato. Questo è il quinto anno che lo faccio. Comunque è molto complicato dare una continuità di risultati in generale. Noi all'inizio siamo partiti con una base che sicuramente aveva già fatto un pezzo di strada insieme, però chiaramente è cambiato l'allenatore, quindi poi alla fine magari i giocatori hanno trovato ovviamente delle nuove cose e avevano bisogno di un periodo di adattamento. Quindi siamo contenti, è chiaro adesso l'ultima, abbiamo perso una partita equilibrata, però al di là di questo siamo soddisfatti a livello di risultati, confidiamo di fare un percorso in linea con quello che abbiamo fatto queste prime giornate, consapevoli che ci saranno momenti migliori e peggiori. Leggo i primi commenti che arrivano dai tifosi e poi passo la parola ad Andrea e a Stefano. Complimenti a Coppitelli per quello che sta facendo con i suoi ragazzi. Complimenti Misti, i ragazzi vanno bene e si vede la mano dell'allenatore. Buonasera Mister, teniamo molto la primavera, contiamo su di lei. Abbiamo detto il tu, date il tu al Mister. Buonasera Mister, complimenti per il lavoro con i ragazzi della primavera. Mi auguro che possiate continuare con questi ritmi e sognare i play-off. Buonasera Mister e complimenti per questo periodo di campionato scoppiettante della sua squadra. Andrea, hai una domanda? Sì, io volevo riedere al Mister. Mister, cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Lecce? Cioè quando ti ha chiamato Corvino del Vecchio, non lo so, poi ti ha contattato esattamente o entrambi, cosa ti ha fatto dire, ok, accetto Lecce perché magari è la piazza giusta nella quale era l'armi? È una domanda che mi hanno fatto in molti una volta fatta questa scelta. Io rispondo più o meno sempre nello stesso modo, nel senso che quando sono venuto a giocare qui ho percepito un po' di entusiasmo, di una cosa che stava crescendo. e quando poi il direttore mi ha chiamato, il direttore Corvino, so quanto lui ci tiene alla primavera, poi era un aspetto per me importantissimo, perché poi questa categoria può essere fatta in tanti modi, con tanti obiettivi. Venivo da un anno particolare a Torino, avevo bisogno delle parole che mi ha detto il direttore, e poi devo dire la verità, non pensavo di trovare, io venivo da una realtà come Torino, dove il tifoso del Torino è prima tifoso della primavera, nel bene e nel male, nel senso che poi tratta la primavera quasi come grandi, quindi poi noi, io ho avuto la fortuna di vincere delle cose, ed è stato bello, però ci sono stati momenti difficili, difficili nel senso che magari quando i ragazzi non si esprimevano bene, hanno anche percepito il malumore del pubblico, quindi venivo da una realtà come quella del Torino, dove la primavera era sentita, devo essere sincero, non me lo aspettavo, ma qui ho trovato lo stesso affetto, lo stesso seguito, quindi per me questo è stato una sorpresa. In più, devo dire la verità, è una società che si sta organizzando, una società dove io sapevo di poter dare un contributo per far crescere magari questa categoria, non solo in termini tecnici, ma a dire la verità, ho trovato veramente una società che si sta organizzando, che si sta strutturando, quindi vedo un futuro roseo per i ragazzi che verranno dal settore giovanile, perché comunque il direttore sta creando delle basi importanti, che non sono frasi fatte, penso che ormai voi state chi la segue la primavera, insomma vede il campo dove stiamo giocando, vede insomma, devo dire la verità, quello che è poi la vita quotidiana, è una vita di una società di alto livello, quindi sinceramente ho trovato anche delle cose migliori di come mi aspettavo, e non lo dico per frasi fatte, ma perché è la verità. Un paio di messaggi, Stefano tieni calda la domanda, complimenti mister, grande mister, complimenti, posso fare gli auguri di compilando con le giratrici a mister Coppitelli, complimenti per quello che sta facendo, invece non hanno alcuna scadenza temporale. Ciao ragazzi, e ancora benvenuto mister Federico nella nostra bella famiglia. Stefano vai con la domanda, mister copri lo schermo della Champions, casomai ci danno i copyright per la Champions League, quindi si mette in una posizione, esatto, perfetto così, vai Stefano. Intanto ciao mister, e complimenti per quanto stai facendo prima d'ora in primavera, hai riportato l'entusiasmo che mancava, devo dire la verità, quindi i miei più sinceri complimenti, l'abbiamo detto all'inizio stagione, già qui su Pianeta Lecce. E ti volevo chiedere, c'è per caso una continuità, tra il lavoro che svolge in primavera e quello della prima squadra, parlo più che altro dal punto di vista, diciamo, di impostazione tattica, si cerca di seguire un filo, un trade union, tra primavera e prima squadra, questo per favorire eventualmente l'ingresso di nuovi ragazzi, tra i titolari, insomma, della prima squadra? Ma diciamo che io credo che alla fine poi i principi più importanti, l'identità la dia sempre alla società, quindi in qualche modo è qualcosa di comune, sicuramente c'è una, la squadra è stata strutturata secondo un modello tattico comune, quello sì, poi è chiaro, in tutte e due le categorie, nella prima squadra evidentemente, però anche poi in primavera, chiaramente parallelamente alla crescita dei giocatori, c'è anche poi da ricercare dei risultati, quindi poi le varie sfumature sono dentro, cioè chiaramente dentro quelle che sono le cose della nostra squadra, uno ha libertà anche di differire per alcune cose, però sicuramente c'è una continuità e soprattutto c'è l'augurio, la speranza che dei ragazzi, come è stato per qualcuno molto recentemente, vengono poi inseriti in prima squadra, in maniera stabile, in maniera importante. Andiamo con qualche domanda dei tifosi, mister come si trova con Sheva Antoni? Ma vabbè, insomma con Sheva mi trovo benissimo, penso sia difficile doversi male con lui, una persona di grande cuore, che poi ha la maglia del Lecce tatuata ormai sulla sua pelle, quindi oltre ad essere un professionista, è anche davvero una persona che è capace di trasmettere ai ragazzi quello che è lo spirito della società dove stanno giocando. Ottima difesa, complimenti mister. Pensi che i passi falsi come Cesena siano dovuti all'inesperienza e quindi magari anche al peso dell'avere i favori del pronostico? Questo è un discorso particolare, perché questa è una categoria, e lo dico sempre anche ai ragazzi, quindi con molta trasparenza, che non ha parallelismi nel calcio dei grandi, perché poi alla fine noi abbiamo giocato contro il Cagliari, una partita che probabilmente con la stessa prestazione, con la stessa preparazione, con gli stessi giocatori, per una similitudine proprio di valori, se la rigiochiamo dieci volte, quattro volte vince il Cagliari, quattro volte vinciamo noi e due volte pareggiamo. Nei campionati normali, le squadre di prima fascia, quando giocano con le ultime, vincono. Su dieci partite ne vincono otto, magari due possono finire diversamente. In primavera non è così, nella primavera uno che c'è adesso non è così, quindi può capitare di vincere con l'Inter e di perdere con il Cesena, e non per forza, poi attenzione, non abbiamo fatto una bella partita a Cesena, quindi sicuramente per carità potremmo fare una partita migliore, però non si può paragonare a una squadra di prima fascia, di ultima fascia, i valori sono talmente simili che è così, ed è così anche nella continuità di risultati. Io anche quando in primavera uno sono arrivato terzo, ci sono stati mesi in cui magari uno ha, magari è capitato un mese in cui uno ha fatto un punto, perché magari giochi con la Fiorentina, con la Roma, con l'Inter, o col Sassuolo, sono tutte squadre forti, e comunque c'è stata sempre una fase del campionato dove c'era la voglia di arrivare ai play-off, però ti vedevi quelle dietro che arrivavano, perché poi magari una o due si staccano, ma poi le squadre che lotteranno per non retrocedere, o che staranno lì vicino, sono squadre di valori simili ai nostri, quindi vanno sempre vissute le partite con i risultati delle partite con moderazione nel bene e nel male, perché poi è un campionato che si vede alla lunga sia i valori che il lavoro. Io sono convinto che noi faremo un buon campionato e stiamo cercando, come è stato detto prima, di ricreare e di cavalcare un po' questo entusiasmo che credo questa, per l'attenzione che ho detto che hanno alla società, che hanno i tifosi, che c'è nell'ambiente, vogliamo riportare e fare dei risultati importanti. Poi, chiaro, ripeto, è un campionato difficile, è un campionato con squadre tutte più o meno di valori simili, quindi non sarà semplice, ma io ho fiducia in tutto quello che ho detto prima. C'è un entusiasmo sicuramente molto importante al di là della categoria, perché a livello numerico io ho seguito la Primavera anche due o tre anni fa quando, insomma, non brillava, quando non c'era Corvino, quelle partite innanzitutto non erano in televisione, quindi chi voleva vedersi doveva essere lì sul campo e Andrea, vuoi confermare quante persone ci potevano essere? Trenta? Eravamo noi e pochi altri, c'eravamo noi e pochi altri. Adesso centinaia di persone per vedere la Primavera, nonostante anche a casa con Sport Italia, senza spostarsi, quindi c'è molto entusiasmo anche per essere presente. Ma anche Filippo, nei commenti, che noi anche sul nostro sito leggiamo, c'è tanto entusiasmo quando si vince, magari delusione quando si perde, ed è una cosa comunque bella perché ti fa capire la voglia della gente di affezionarsi anche a questi ragazzi che poi rappresentano comunque un patrimonio di questa società perché poi arrivare, avere, ora parlo di Ron Zaletz ma potrei farne altri dieci esempi di ragazzi che possono arrivare in prima squadra e che ora stanno in primavera è una bella cosa per tutti e poi per una squadra romellecce è anche proprio vitale perché portare giovani dalla primavera in prima squadra rappresenta poi una futura plus valenza e vediamo Empoli, Udinese, Atalanta che hanno costruito le loro fortune così. Vano nello specifico, una domanda. Mi chiedono se Dorgu è fortissimo o è solo mia impressione quindi Toti Rizzo. No, beh, è sicuramente uno dei prospetti che il direttore ha scovato con la sua con le sue capacità è un prospetto importante chiaramente è il terzino sinistro della nazionale danese quindi non è solo un'impressione di chi ha mandato il messaggio l'hanno visto anche altri è un ragazzo che anche lui deve fare il suo percorso però insomma anche lui non è un futuro brillante davanti davanti a sé per collegarmi a quello che dicevi prima hai fatto degli esempi giustissimi secondo me adesso come adesso per il calcio di oggi è importante avere una una primavera in generale con qualcosa da sotto che viene anche con percependo i tifosi l'attenzione anche la delusione quando si perde l'ambizione di fare risultato l'ambizione di andare a giocare alla pari con l'Inter perché poi alla fine senza volerci nascondere i nostri ragazzi saranno scelti o dalla o dalla nostra società o da altre squadre dove andranno a fare esperienza e saranno comparati con quelli dell'Inno quelli della Juve quelli della Fiorentina e quindi dargli un risalto attraverso i risultati attraverso delle prestazioni che siano convincenti contro appunto gli avversari che poi saranno i loro competitor proprio individualmente è fondamentale io ho una curiosità ma com'è il rapporto fra l'allenatore della Primavera e Pantaleo Corvino che tipo di direttore è Corvino è il direttore che magari dopo ogni singola partita dopo il novantesimo chiama e dice bella partita si poteva fare meglio oppure chiama con calma che tipo di contatti ci sono quotidiani settimanali ma diciamo che il direttore ha organizzato una struttura anche per la Primavera ripeto come ho detto prima noi abbiamo un'organizzazione secondo me di livello molto alto il referente insomma poi della Primavera è il club manager che è Giovanni De Toma che è il principale insomma riferimento mio nel quotidiano è una persona di spessore secondo me molto molto alto è un professionista importante e il direttore lui ha un'attenzione ripeto io la prima volta che mi sono seduto con lui mi ha detto proprio queste parole che sono quelle poi che per me erano importanti cioè che per lui la Primavera è super importante e lui la la segue con una ma io poi l'ho capito perché poi conosceva tutti i giocatori della Primavera e non è vi posso assicurare che non è assolutamente comune lui si vede tutte le cioè ha una partecipazione che ripeto io ho fatto questa categoria tanti anni non è non è comune poi lo fa con attenzione partecipazione quotidiana quindi lui sa tutto e quando quando non ci sentiamo direttamente è informato su su tutto quindi noi da questo punto di vista lo sentiamo lo sentono i ragazzi lui è direttamente coinvolto veramente al cento per cento Stefano io avevo una una curiosità parliamo sempre di diciamo i tanti ragazzi che vengono vengono da fuori nazione e ce ne sono tanti anche qui a legge però secondo lei secondo te anzi c'è la possibilità di qualche non so profilo italiano interessante già presente nelle giovanili in queste giovanili o comunque si può fare un calcio anche con con ragazzi italiani perché purtroppo in questo momento è difficile viste comunque anche le ottime prestazioni fatte da ragazzi che vengono da fuori per carità ma allora è chiaro secondo me nessuno si può augurare nel senso di posso dire è chiaro che per me già l'anno prossimo il Lecce avrà una base di 2005 Minerva Borgo dei ragazzi che sono dentro le dinamiche della primavera e Minerva ha giocato penso che abbia già quattro presenze con noi è un giocatore cresciuto nel Lecce italiano che sta facendo un campionato di primo livello arriverà a fine anno che è pronto per confrontarsi anche con chi viene da fuori è chiaro che probabilmente nelle valutazioni che sono state fatte negli anni per mille motivi ripeto il più banale può essere quello lì di cui abbiamo parlato prima cioè fare in modo che questi ragazzi facciano campionati importanti di livello importante e il confronto dal quale il ragazzo italiano è uscito magari tra virgolette sconfitto e un ragazzo da fuori è stato scelto rispetto a lui secondo me è chiaro io sono andato anche a vedere qualche le annate più piccole secondo me ci sono dei gruppi ho visto dei gruppi in particolare nei piccolini importanti ho visto dei ragazzi secondo me c'è un ottimo lavoro anche a livello di under 15 under 14 under 13 anche nelle categorie che non sono agonistiche secondo me si sta facendo un buon lavoro nel tempo usciranno dei gruppi che hanno uno zoccolo duro e chiaramente è un vantaggio per tutti non credo che nessuno voglia prendere 15 giocatori tutti da fuori è chiaro che se ci fosse uno zoccolo duro avrebbe una strada privilegiata non è stato così perché probabilmente le annate che adesso sono in primavera 2003-2004 nel percorso magari hanno fatto hanno avuto più difficoltà ecco questo sì però secondo me già dall'anno prossimo ci saranno i 2005-2006 che sono già dentro le nostre cose e saranno uno zoccolo duro però ecco hanno fatto delle partite e un campionato di medio-alto livello sì chiedendo di Samek io aggiungerei anche Beriscia e Vultura perché Corvino stesso verso agosto disse come state vedendo in Serie A con Zaletz che lo scorso anno era in primavera un domani potreste vedere disse proprio Vultura e Beriscia Samek questi tipi di giocatori lo pensi anche tu proprio mister e questi sono ben avviati verso magari un futuro del professionismo Sì sono tre profili importanti chiaro poi la Serie A è qualcosa di grande quindi poi dipende da tante cose anche dall'esigenza che avrà poi la prima scuola però sono tre profili sicuramente di primo livello devo continuare a dimostrarlo però insomma ci può stare è una è una possibilità concreta insomma Andrea Io volevo farti una domanda personale mister ma molto semplice il tuo sogno da allenatore qual è? Cioè Federino Roppitelli quando arriva dove deve arrivare per essere soddisfatto e fiero di se stesso? Io adesso non sono contento devo dire la verità sembra anche questa è un po' una frase fatta però è così ho fatto una prima parte della mia carriera dove troviamo la carriera nel senso che dove per andare avanti ho dovuto fare tanti risultati e partendo dai dilettanti sono arrivato insomma alla Roma e volevo crescere velocemente e da lì poi andai al Torino e dopo quattro anni di primavera ho voluto fare un'esperienza nei grandi forzando anche insomma a Imola a Imola forzando anche delle situazioni sì diciamo che io avevo trovato già un accordo con un'altra scuola poi vabbè un salto andai a Limolese proprio perché avevo voglia di fare questa esperienza poi forzai ecco una situazione perché in quel momento avevo questo bisogno di crescere sempre devo dire nel poi in quel momento poi devo dire la vita la prima era mi è mancata quindi poi sono tornato al Torino e l'anno scorso e poi ecco qui nel senso io non ho quella come posso dire non ho più quella bramosia di dover crescere a tutti i costi o di ogni anno di dover mettere una cosa in più voglio stare bene voglio e devo dire la verità è stata una scelta pensata molto ma per adesso sono contento sono contento e penso sto bene sinceramente non mi sento in questo momento di avere non ho tutti noi abbiamo dei sogni perché saremmo bugiati sarei un falso a dire che non ho sogno non ho un'ambizione però al tempo stesso non mi sento bugiardo a dire che sto bene sono felice e mi trovo in una situazione in cui sto bene sinceramente ma d'altronde la primavera 1 è anche una vetrina importante nel senso adesso stiamo vedendo il Verona vorrebbe prendere Bocchetti che è anche sotto di noi ha fatto sette punti in sette partite e potrebbe finire in Serie A Palladino il mondo non è neppure primavera 1 in Serie A anche in passato tante volte sono vetrine importanti li fanno vedere quindi io forse allenatore non dico forse sì sullo stesso piano ad esempio Serie C primavera 1 perché su Sport Italia tanta gente la vede anche magari se non ti fa quella squadra tanta gente vede la primavera 1 quindi ma anche tutti i lavori poi ha un seguito per gli altri lavori perché poi beh vedere il giovane ma come va a vedere il giovane va a vedere anche poi come gioca la squadra e quindi ti rendi pronto anche dei meriti che può avere un allenatore rispetto alla crescita di un giovane quindi anche quanti giuratori riesce a valorizzare quindi ovviamente è una vetrina importante pure per questo l'ultima domanda e poi la recuperiamo è una categoria che a me piace tanto questo devo dirlo se è fatta come come è fatta come la stiamo facendo anche noi quest'anno è una categoria che a me piace tanto devo essere devo essere onesto quindi prima di ecco di lasciarla ci penso tante volte ecco anche perché adesso ecco hai fatto l'esempio della Serie C è un mondo ci sono stato complicato poco simpatico certamente ultima domanda e poi ti liberiamo in merito alla crescita per me è una forse la più grande sorpresa perché lo conoscevamo già da due anni Burnete io l'ho sempre visto come il centravanti forte che lavora per la squadra ma che non segna quest'anno sta segnando qual è la chiave del suo miglioramento io posso parlare per quest'anno e per l'anno scorso quando l'ho incontrato da avversario mi ricordo l'anno scorso lo vidi esordire poi vabbè mi piace avere una conoscenza maniacale di tutti i giocatori del campionato quindi lui lo vidi esordire mi sembra in Coppa Italia con la prima squadra del Lecce e lo seguì con la nazionale e mi piaceva molto poi devo essere sincero noi giocammo a gennaio contro mi fece un'impressione orribile e gli lo dissi quando l'ho incontrato perché poi al ritorno lui non giocò non entrò neanche e gli dissi quale giocatore era perché io ho visto delle partite in un modo e l'ho visto in una maniera diversa non avevamo giocato contro è stato bravo lui sinceramente secondo me a maturare ma i ragazzi secondo me quando hanno qualità vanno indirizzati poi sono loro a trovare la strada lui secondo me fa parte di quei profili che noi siamo pronti a portare nel calcio importante anche lui deve e in questo è sempre un po' il discorso che facciamo prima la squadra deve aiutare il singolo il singolo deve aiutare la squadra Burnete mi aspetto che tra 15-20 partite di alto livello di confronti come è stato anche quello di 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 domenica con il Cagliari nel senso che il Cagliari alla fine nelle prime giornate aveva un po' faticato ma poi ha rimesso l'ossatura dell'anno scorso che aveva fatto una semifinale scudetto e i nostri giocatori sono confrontati con il top della categoria e al di là ripeto del gol in più il palo che è la palla che entra o esce ne siamo usciti consapevoli di avere individualmente come squadra una squadra ottima e questo è importante mi aspetto che Burnete a fine anno continui il suo percorso di miglioramento che sia un giocatore secondo me un giocatore di alto livello di attaccante della nazionale insomma mi aspetto io ero sorpreso di quella età ero sorpreso che avesse però i ragazzi vivono anche fasi momenti quindi ci può stare però mi aspetto ancora di più da lui devo essere sincero sono convinto che possa che possa fare molto ragazzo con delle e poi soprattutto a me piacciono molto i ragazzi che arrivano in primavera che stanno crescendo quindi non mi piace non mi piace molto chi è nella parabola discendente lui sta crescendo quindi quando crescono non sai mai fino a dove possono arrivare va bene mister ti ringraziamo e ti liberiamo puoi tornare a vedere la Champions League grazie per essere stato con noi ciao mister grazie mille mister continuiamo a seguire la primavera ringraziamo anche l'ufficio stampa del Lecce un saluto grande grazie e andiamo subito velocemente al secondo spiegiornata Alessandro Budel voce di Dazon ex calciatore ex calciatore lo conoscete benissimo lo conosco persino io che sono in 2001 quindi figurate che se non lo conoscete voi però l'abbiamo invitato qui perché oltre ad essere un ex Lecce ha fatto il commento tecnico di Roma Lecce quindi l'ha vista forse anche ma io sono sicuro meglio di noi perché per fare quel lavoro devi vederlo in certa maniera grazie per essere con noi tutti un piacere ci diamo del tuo hai capito questa atmosfera super informale quindi mi sento ancora giovane non è un problema come l'hai vista soprattutto in un'ottica Lecce perché è chiaro la Roma ma anche deluso un po' però in un'ottica Lecce ti aspettavi un Lecce che fa quel tipo di partita è stata molto influenzata da quell'episodio la verità mi è piaciuto molto il Lecce mi è piaciuto soprattutto quando è rimasto in dieci perché comunque ha continuato a lottare ha proposto anche un ottimo gioco ha messo in difficoltà comunque la Roma nelle ripartenze quindi ha dimostrato grande carattere quello che comunque serve per salvarsi in Serie A quindi credo che sia sulla strada giusta il Lecce ha messo davvero in grandi difficoltà la Roma che è andata più in difficoltà quando il Lecce è rimasto in dieci che magari nei minuti iniziali poi naturalmente quell'espulsione ha poi un attimo aiutato anche la Roma poi nel proseguo soprattutto nel secondo tempo magari a gestire un po' meglio la palla Andrea se hai una domanda sì io vorrei tornare brevemente perché poi cerchiamo di ormai di non parlare più delle episodi arbitrali anche perché se ne è discusso tanto volevo sapere ad Alessandro riguardo l'espulsione tu ti hai comunque giocato in Serie A a quei livelli secondo te quello il fallo di Hulman comunque il presunto fallo di Hulman è effettivamente da considerarsi uno sconto di gioco l'espulsione ci può stare perché la valutazione dell'arbitro magari diciamo fa riferimento a un'entrata dura del giocatore come l'hai visto quell'episodio perché poi magari noi a quei livelli non abbiamo giocato quindi non sappiamo nemmeno le dinamiche che ci sono in quel tipo di scontro credo che c'è un fatto che fa capire che quello quasi non è neanche un fallo da munizione se tu noti dopo quello scontro nessuno dei giocatori della Roma è andato a protestare io credo che quando c'è un fallo brutto chiunque è all'interno del campo ti rendi subito conto della scorretezza dell'avversario dell'entrata cattiva ancora uno scontro di gioco cioè il fatto è che è arrivato prima Belotti sulla palla è arrivato magari meno di un secondo dopo anche in quel caso non ha più preso la palla e nell'inerzia dell'azione è finito poi col piede sul ginocchio di Belotti è uno scontro di gioco che capita ma è normale che se tu fermi l'azione ve la vai vedere la Moviola metti il frame di quando il piede è sul ginocchio dell'avversario è normale che poi può risultare qualsiasi cosa però non è assolutamente un fallo da espulsione quelli sono scontri di gioco normali che capitano in scivolata è capitato mille volte i due giocatori ci vanno se un altro va in anticipo è normale che l'altro ha un pelle in ritardo ci può stare la munizione perché è arrivato un po' più in ritardo di Belotti ma sicuramente l'espulsione a mio parere di quella partita è eccessiva e purtroppo poi rimanendo in dieci comunque la vai rovinare dando un cartellino di quel genere e il VAR e il VAR secondo me in certe situazioni deve aiutare deve aiutare devi valutare le immagini del VAR e comunque credo che ogni tanto anche la visione stessa magari di uno che ha giocato che è stato dentro un campo magari col VAR secondo me potrebbe essere magari il valore aggiunto che ci può essere al VAR i primi commenti arrivano grandissimo Buda il gran centrocanchista e ottimo commentatore tecnico Stefano se vuoi andare con la domanda ciao Alessandro durante la partita ti ho sentito spesso ripetere che forse era la prima partita in cui la Roma usciva usciva un po' più par al piede avendo una gestione della palla diciamo più come dire quasi continua e costante per per buona parte della gara hai visto nei primi diciamo nei primi dieci minuti un Lecce un po' troppo remissivo cioè l'atteggiamento del Lecce ti è piaciuto sin dall'inizio oppure è migliorato nel corso della partita in virtù o comunque è favorito anche da quelli che sono gli episodi contro che forse hanno in un certo modo come dire migliorato anche l'atteggiamento del Lecce il fatto che la Roma abbia ottenuto tanto possesso palla è solo per un atteggiamento diverso da parte del Lecce rispetto alla Roma il Lecce secondo me ha fatto una partita stando un po' più basso aspettando gli avversari e quindi credo che da lì poi derivi poi il possesso palla della Roma però non è perché era un Lecce rinunciatario un Lecce è solo il fatto che è stato un po' più basso è stato più compatto per lasciare meno spazio alla Roma credo che sia stata lì la differenza quindi tante volte la Roma ha fatto lei stessa la partita stando più basso aspettando gli avversari tutte le volte l'ho commentata la Roma era lei quella che aspettava e non faceva la partita questa volta invece il Lecce secondo me voleva quasi tirarlo fuori tirare fuori la Roma dal luce magari ripartire in contropende facendo male agli avversari poi dal ventesimo cambia la partita poi quindi perché poi rimanendo in dieci ti devi abbassare ancora di più e fai anche più fatica a ripartire chiedendo buonasera Alessandro come ti è sembrato un TT quale credi sia il punto debole più evidente di questo Lecce ti l'ho visto bene onestamente comunque mi è piaciuto l'ho visto anche fisicamente a palla l'ho visto bene credo che i due centrali comunque abbiano fatto una buona gara anche perché poi ripeto dal ventesimo rimanere in dieci non è facile sempre con l'uomo in meno con il dettore avversario penso che sia stata comunque un'ottima partita anche da parte sua può dare grande esperienza a questa squadra che comunque credo abbia bisogno siccome a Lecce forse un punto debole gli manca magari il vero attaccante il velo golador per la Serie A forse potrà fare un po' fatica lì davanti magari arriverà qualche gol in meno perché magari manca il vero bomb è normale che però a Banda mi è piaciuto tanto c'è Strefezza che è in grande forma in mezzo al campo comunque una squadra ostica che corre credo che forse se vogliamo trovare un punto debole in questo momento magari ecco il vero centravanti altre domande che probabilmente anticipano anche le nostre perché fanno un accenno alla carriera del calciatore alla maglia del Lecce una breve domanda nostalgica per Alessandro come è stato a debuttare in Serie A proprio con la maglia del Lecce? ho proprio debuttato all'Olimpico io contro la Lazio quindi io naturalmente poi come ogni bambino sono i sempre di fare il calciatore quindi esordire poi in Serie A con una maglia importante all'interno di un grande stadio è stato molto emozionante poi c'era tutta la famiglia tutti che mi seguivano quindi ho un grande ricordo di quei momenti Andrea io volevo sapere appunto parlando sempre della tua esperienza a Lecce anche se è stata un'esperienza breve da giovanissimo magari non ancora al massimo della maturità sportiva calcistica cosa ti è rimasto di quell'esperienza cioè qual è la cosa che magari poi ti sei portato via da Lecce e ti è rimasta nella tua arriera? prima penso che all'interno di quella squadra ci fossero veramente dei grandi giocatori comunque la prima io credo che c'era un Vucinic con me diciottenne e difficilmente ho ritrovato un giocatore così forte in arco della mia carriera cioè già Vucinic a diciotta anni era potenziale fenomeno ha fatto la metà di quello che poteva comunque fare nella sua carriera perché era veramente un giocatore straordinario ma poi ho un bellissimo ricordo è vero che è stato poco purtroppo in quegli anni ero impresso dal Milan quindi giravo tantissimo però in città stavo benissimo anche con la mia famiglia era bella città bella gente mia madre comunque è pugliese quindi nel senso ho un bel ricordo assolutamente sono tanti punti di vista poi faticamo un po' all'inizio perché comunque la Serie A di quegli anni era bella tosta però poi io andai via a Gennaio mi sembra che andai poi a Genoa in Serie B e poi la squadra riuscì comunque a salvarsi perché ripeto era comunque aveva grandissimi giocatori roso cioè la Scevantona grande esperienza giovani come me Ledesma c'era Piangerelli Cassetti Tonetto c'è Stovini quindi veramente una squadra un po' bogino che era giovanissimo una squadra forte c'era forse anche Amelia c'era Amelia in porta assolutamente sì sì anche lui ultimissime domande ultimissime domande chi credi si giocherà la salvezza insieme ai giallorossi è una bella domanda questa ti vedi peggio magari c'hai un po' di coraggio in questo momento la Sampdoria non la vedo assolutamente bene credo che stia stia fatticando anche più del dovuto e si dovrà riprendere più presto quindi penso che sarà la squadra che che se la giocherà fino all'ultimo poi io onestamente il Lecce la vedo un pelo sopra da alcune squadre che in questo momento stanno fatticando lì sotto ti dico la verità mi è piaciuto come nell'atteggiamento e nell'organizzazione di gioco poi è normale che ci sarà da soffrire fino all'ultimo però io vedo un Lecce che comunque potrà salvarsi anche con qualche giornata d'anticipo appunto perché secondo me è già entrata in una mentalità giusta eh qui ci dà fidu Filippo ci dà fidu mi sono gasato particolarmente dopo dopo questo intervento invece extracalcistico quello che sta succedendo a Verona Diego Lopez no Bocchetti forse può creare un'instabilità nello spogliatoio d'extracalcistico in una situazione del genere anche perché il Verona viene da anni spettacolari no? perché comunque con Yuri ci ha fatto grandi cose con Tudor anche non si aspettava probabilmente questa partenza falsa di quest'anno quindi è in difficoltà una piazza importante anche quella quindi è normale che ci sia un po' di confusione però ci sta no? se poi ogni anno vendi comunque tanti giocatori e devi iniziare da zero tutte le volte è comunque complicato nonostante anche la grande magari collaborazione anche le grandi organizzazioni tattiche ormai al Verona quindi però a volte non basta credo che sia importante anche i giocatori poi ultima domanda e liberiamo Ale è proprio due a Stefano ok va bene tanto era collegata a questa era collegata a questa fondamentalmente cioè volevo più che altro sapere da Alessandro che comunque nel mondo del calcio ormai da anni perché in questa stagione molte squadre stanno ricorrendo a scelte interne vedi il Monza Palladino il Verona forse va a prendere Bocchetti cioè perché non si va alla ricerca invece dei nuovi ormai conosciuti vari Iachini per fare un esempio ma invece va alla ricerca di persone già all'interno delle società probabilmente perché li conoscono già li conoscono meglio hanno visto come lavorano probabilmente Palladino all'interno della società era già stimato credo quindi sapevano già come potesse lavorare che impatto potesse avere comunque sulla squadra e credo che quello comunque siamo raggiunti poi ci sono anche casi come De Rossi alla Spal che quindi comunque è un altro allenatore che ha fatto una grande carriera credo che nelle sue corde ci sia di voler farlo allenatore è andato in una piazza importante poi magari il Verona va un po' a copiare quello che ha fatto il Monza che gli sta andando bene quindi a volte c'è anche il fatto di emulare un po' le altre squadre credo che anche quelle un po' a volte ci siano un po' le mode anche da questo punto di vista quindi probabilmente è anche un po' legato a quello ti ringraziamo tantissimo Alessandro noi continueremo a seguirti su Dazon con grande piacere grazie a te lunedì comunque commenterai le ceferentina o no parla io le ceferentina invece io andrò a Napoli a fare Napoli-Bologna quindi una bella partita una bella partita Napoli ti ringraziamo tantissimo grazie davvero per essere stato con noi disponibili grazie a voi a presto ci vediamo presto grazie ciao 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 e niente in attesa del nostro ultimo ospite comunque Filippo ci ha detto ci ha detto la cosa del ti vede un pelino sopra il legge se lo dice Alessandro Budel mi fido mi sono emozionato Stefano dicevi io mi sono emozionato anche io ma nello stesso tempo sentire un commentatore tecnico che ormai ripeto nel mondo del calcio da anni parlare del legge è come se fosse una squadra come dire che ci può stare tranquillamente in questa Serie A a me sinceramente tranquillizza poi noi possiamo noi diciamo dalla nostra possiamo discutire quanto vogliamo ovviamente il commento di una persona che nel mondo del calcio ha quel valore in più ma poi Stefano noi io mi rendo anche conto a volte che quando parliamo di legge pur volendo essere più lucidi possibili ovviamente prevale poi l'aspetto è vero quindi avere un parere di una persona comunque che sta nel mondo del calcio che ha fatto il calcio vedere ad altissimi livelli perché comunque giocare in Serie A soprattutto poi gli anni poi perché Buder ha finito la porro però ha giocato negli anni d'oro della Serie A soprattutto e quindi avere un parere da un esterno è ancora è ancora meglio è ancora più gratificante quindi si vede che effettivamente all'esterno viene vista questa squadra come una squadra tosta che poi è l'aralto dei fatti perché poi questa squadra non è stata mai messa sotto da nessuno noi lo vediamo da giornalisti da tifosi e quindi a volte ci facciamo prendere un po' dallo scoramento quando magari non vedi il risultato ci fanno una trasmissione bella trasmissione bravi e mi danno un bello spunto Andrea questo lo vorremmo sviluppare questo spunto la prossima volta vogliamo dire i bocchi anche lui sicuro possiamo arrivarci non so se c'è ancora da zone possiamo arrivarci ho dei contatti da zone che possono procurarmi il contatto ottimo spunto ottimo spunto molto interessante a breve dovrebbe arrivare il nostro anche se ti ribocchi è un po' controverso per i tifosi del legge non è amatissimo dai tifosi del legge non capisco perché sinceramente a parole però Andrea perché ogni tanto quando parla del legge parla sì forse forse è quello qualche commento diciamo un po' no vabbè dal punto di vista della diciamo della vicinanza alla maglia ma poi ti ribocchi per me è il gol al San Nicola contro il Bari cioè ti ribocchi a lui è quello il gol quello del 2-0 sul lancio di Benussi o di Diamutena è quello è molto affezionato sinceramente cioè ne ho sentito parlare sempre molto bene il problema ogni tanto quando fai questi commenti tecnici devi essere imparziali esatto 4-0 esatto Patrizio hai ragione è proprio lui è infatti cioè se tu io immagino ti ribocchi vedo quella scena mi ricordo pure il gol che fece a Verona stupendo cioè stupendo quello colcievo quello dove stoppa la paglia bellissimo bellissimo ci avviamo verso la Fiorentina adesso diciamo la nostra sulla Fiorentina poi arriverà l'esperto del settore tra l'altro ci dicono vogliamo crescere io l'ho impuntata un tentativo l'abbiamo anche fatto ci ha anche risposto però il mercoledì purtroppo noi non seguiamo la Champions League ma c'è chi la segue per lavoro quindi ragazzi ma ve lo porteremo Rescitello fiducia tanto non c'è sempre la Champions non c'è sempre quindi ve lo porteremo parlando della Fiorentina io fatico davvero a vedere la Fiorentina nel senso a più due se non erro da noi comunque sta facendo grande fatica a me l'italiano piace tantissimo la Fiorentina ha delle elementi importanti da esterno da ciò che dicono a Firenze ciò che manca è la punta dicono che credono tanto è la punta che Jovic Cabral non finalizza dopo chiederemo all'ospite però non so se voi l'avete vista qualche partita della Fiorentina sì forse ha due problemi Filippo il primo è il fatto che comunque l'italiano pur essendo un tecnico che stimo perché ha delle ottime di gioco è un po' integralista nel senso che in questo momento la Fiorentina ha dei problemi soprattutto nella finalizzazione questo ce lo siamo detti il problema è che non continua sulla sua strada senza adottare dei cambiamenti comunque delle combinazioni diverse rispetto a quelle dell'ultimo dell'ultimo periodo tanto per intenderci molti tifosi viola contestano l'utilizzo di icone soprattutto nella prima parte della gara o comunque il fatto di farlo partire da titolare però a queste a queste a questa idea ha ovviamente un suo progetto tecnico e lo porta avanti ribadisco io lo stimo italiano ma l'anno scorso quando c'è stato Vlaovic ci ricordiamo la Fiorentina qual era quest'anno sarà Cabral Jovic sta facendo molta fatica in realtà devo dire la verità è anche molto sfortunata perché ho visto qualche qualche partita e tirano molto verso la porta adesso lo chiediamo a chi la segue sicuramente meglio di noi e con noi Matteo Dovellini di Repubblica ciao Matteo grazie per essere con noi subito la domanda ci possiamo dare del tu certo buonasera a tutti buonasera a tutti ciao Matteo ciao a tutti grazie mille per essere con noi a voi davvero noi stavamo già abbozzando i perché di questi problemi della Fiorentina in questa prima parte di campionato paradossalmente sebbene quando pensiamo alla Fiorentina nella nostra mente per giocatori per la scorsa stagione per allenatore la proiettiamo indubbiamente nella parte di sinistra classifica magari anche fra le prime sette paradossalmente sta accanto a noi perché ci togliamo pochissimi punti stiamo anche un po' faticando a spiegarci perché di questo inizio di stagione così perché io anticipo a prescindere da questo inizio di stagione io la temo come la Fiorentina dello scorso anno per me è quel tipo di squadra sì diciamo come impianto come sistema di gioco sicuramente la differenza è che davanti per tutta la prima parte della scorsa stagione avevi Luzan Blaovic poi eri riuscito in qualche modo a rimediare con Torreira che comunque ha fatto i suoi gol con Piontek che comunque aveva fatto i suoi gol poi però insomma si è andato a battere contro quella che è la sterilità offensiva sterilità che tu hai anche in questa stagione perché sia Iovic che Cabral non sono riusciti in questo momento a colmare l'assenza di Blaovic ed è un gran peccato perché poi la Fiorentina è prima praticamente in tutte le statistiche che la vedono nella fase offensiva che siano i crossi calcinangolo oggi leggevo addirittura quelle che erano le grandi occasioni create la Fiorentina è prima nel possesso palle prima ovunque in quelle statistiche che richiedono l'attivazione della parte offensiva ma è ultima ed è questa una statistica pubblicata da Kikest nella nella con anch'io è bravisto convertire le grandi occasioni 20% ultima in Serie A convertire le grandi occasioni in pratica una grande occasione loro ne segnano una su cinque grandi occasioni parliamo quindi immagino tiri nell'area di rigore davanti al portiere queste cose così pochissimo il Lecce se non erro 40% circa la metà classifica mentre la Fiorentina è stata loro ultima quindi fa impressione questo è l'evidenza più totale no Filippo perché tu crei tantissimo e poi però non riesci a concretizzare guardate che per Vincenzo Italiano che uno che ha fatto di questo tipo di gioco quello della fase offensiva insomma è pesante da affrontare perché poi scoraggia molto a livello mentale ma a Firenze cosa si dice nel senso siete tutti d'accordo che il problema è la finalizzazione magari qualcuno anche qualche critica l'italiano magari c'è un piccolo partito che vuole l'italiano out com'è la situazione sai benissimo che quando le cose non vanno bene non girano per il verso giusto c'è anche chi poi mette sotto accusa diciamo così l'allenatore però mi sembra ingeneroso nei confronti di Vincenzo Italiano perché comunque la sua squadra sta facendo molto c'è chi accusa invece o comunque rimprovera Vincenzo Italiano di un fatto ed è quello di aver rinnovato il contratto in estate fino al 2024 con opzione a favore della Fiorentina fino al 2025 dicendo che insomma ok ha rinnovato ma era era a conoscenza di quello che sarebbe stato il mercato il mercato che è stato condiviso ha secondato al 100% e quindi in qualche modo ha secondato anche quelle che sono state le scelte per esempio in fase offensiva quindi la permanenza di Cabral e l'arrivo di Jovic un calciatore che ricordiamo è arrivato con una formula incredibile praticamente a zero con un presito biennale assurdo pazzesco ma è arrivato anche perché il procuratore di Jovic che è Fali Ramadani è lo stesso di Vincenzo Italiano quindi insomma una scelta comunque condivisa al 100% quella Fiorentina è con lo stesso calciatore quindi c'è chi rimprovera Vincenzo Italiano di non aver chiesto invece una punta un po' più forte un po' più solida forte nel senso forte che fosse già forte in Serie A che fosse già attivata perché più volte Italiano ha detto che Jovic è un calciatore di gran talento ma che si deve riattivare io posso aggiungere che mi sembra che il calciatore oltre che a riattivarsi perché poi settimana scorsa una settimana fa ha fatto gol in Scozia contro iers in Conference League e tutti eravamo a dire adesso si è riattivato finalmente ha trovato quella scintilla a me sembra che sia un calciatore che veramente forse sia in questo momento una fase dal punto di vista mentale molto 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 negativa e oggi ho guardato la rifinitura della Fiorentina perché domani gioca in Conference e ho visto 15 minuti quindi il niente più totale però mi sembrava un calciatore veramente sai di quei calciatori che proprio la testa in questo momento l'hanno altrove ecco prima di passare la parola ad Andrea Stefano una domanda da chi ci segue io ho una curiosità perché a Firenze la maggior parte dei tifosi adesso poi ti chiediamo se è vero che la maggior parte dei tifosi non vede bene Corvino nonostante ad oggi forse il mercato della Fiorentina è fatto anche grazie alle sue scoperte ma su tutte è bravo ti chiedo tu cosa ne pensi di Corvino e a Firenze cosa ne pensavi di Corvino allora cosa ne penso io conosco molto bene Pantaleo tanti anni è stato a Firenze quindi non c'è niente assolutamente di negativo nei confronti di Pantaleo e Corvino purtroppo tra l'altro lui ha vissuto due fasi una fase in cui della Valle la loro proprietà era forte e ha deciso di investire e quindi aveva dato praticamente mandato a Corvino totale sul mercato e Corvino era stato bravissimo sia nel comprare giocatori forti perché mi ricordo la trattativa con Rino Foschi per prendere Tony per esempio che fu una trattativa incredibile e che portò poi Tony a Firenze i Obiti ci mi hanno portati tanti i calciatori di gran qualità ma sia calciatori forti ho fatto l'esempio di Tony ma posso fare l'esempio anche di Mutu per esempio che Firenze ha fatto benissimo ma ha vissuto un'epoca d'oro anche quando aveva la possibilità di andare a prendere talenti poi da affermare e vendere come plus valenze penso su tutti Jovic chiaramente che è stato scusatemi Jovic che è stato il calciatore da questo punto di vista più redditizio però purtroppo ha vissuto la seconda parte della sua esperienza in cui in realtà i della Valle stavano cedendo stavano hanno tirato i remi in barca auto e in quel momento lì Pantaleo Corvino anche perché non aveva più quella come dire quella libertà da il portafoglio che non ha l'altezza ma devo dire non per dei meriti di Corvino ma per la loro proprietà che aveva deciso di chiudere completamente i rubinetti quindi qualche occasione la puoi beccare qualche investimento incredibile e talento li puoi trovare però ad un certo punto sei sei in chiusura totale devi vendere tutto compreso il passaggio dai della Valle commisso che so per certo al centro Matteo la connessione non è top diciamo ogni tanto non ti vediamo più si sta ora non si sente più bene si ora la connessione ci ha salutati totalmente ha screcciato ormai andrà contattalo contattalo adesso adesso recuperiamola comunque ci stava facendo un escursus della diciamo della storia di Corvino a Firenze che ragazzi qualcosa di clamoroso forse raccontata cioè l'abbiamo sempre sentita dalla parte di sì ma io sono curioso infatti dalla parte finale poi non si è sentita perché poi si parlava Matteo Dussetti stava dicendo la seconda parte però però Blaovic e Milenkovic per dirne due comunque li ha portati e comunque rappresentano no Blaovic ha rappresentato sia presente per la Fiorentina che plus valenza così come Milenkovic probabilmente sarà una plus valenza ma infatti cioè su questo su questo punto Corvino ha sempre diciamo l'ha sempre dibattito dicendo che sull'ultimo periodo no ancora no ok adesso è uscito totalmente adesso è uscito totalmente magari adesso sta facendo un riavvio però è proprio mentre prima era nel backstage comunque sì ragazzi anche sull'ultimo periodo diciamo ha fatto tantissimo cioè portando veramente i giocatori eccolo è tornato ciao Matteo erano curiosi no figurati stavamo dicendo proprio Andrea Andrea ha detto che proprio un momento più bello ci siamo persi che lui era immerso ci siamo persi nel secondo passaggio nella seconda fase di Corvino sì a Firenze poi ti abbiamo un attimo perso la seconda fase di Corvino a Firenze è stata quella lì Andrea in cui lui non aveva più libertà d'azione no non aveva più potere perché i della valle decisero dell'autofinanziamento e decisero soprattutto poi piano piano affidandosi all'autofinanziamento no di andare incontro anche alla cessione della proprietà più volte ventilata e poi è arrivata nel 2019 e ti dicevo che Corvino quegli ultimi anni di Firenze che lui aveva vissuto con la voglia di tornare la voglia comunque anche di rimanere a Firenze io penso che non l'abbia vissuti benissimo perché comunque non aveva più margini non aveva più possibilità di trovare i grandi talenti perché poi insomma o veramente riesce a trovarli e a portarli e qualcosa comunque riesce a fare o quando non hai più portafoglio quando non hai più libertà d'azione è molto difficile quando tu hai mandato soltanto di vendere i tuoi calciatori di rientrare no perché poi sai che la società deve vendere insomma diventa complicato e lui non ha vissuto lo so al 100% non ha vissuto bene neanche il passaggio dai della valle a commisso dove evidentemente si aspettava o di rimanere come in qualche modo come dirigente addirittura come direttore generale e invece so che l'attuale dirigenza della Fiorentina l'ha gentilmente accompagnato alla porta parafrasando e Corvino io penso che non ci sia rimasto benissimo detto questo però dicevo che non ha il dente avvelenato nei confronti della Fiorentina Firenze per due è una tappa fondamentale della sua carriera dove ha vissuto tante tantissime gioie certo è che diciamo l'altra parte della domanda è come cosa ne pensano i Fiorentini i Fiorentini pensano che Corvino abbia portato a Firenze tanti giocatori tanti talenti veri ma l'altra faccia della medaglia è che abbia portato anche tanti calciatori che sono finiti chissà dove e non hanno reso alla perfezione è un discorso che qua a Firenze gira molto ma soprattutto sai i Fiorentini comunque sono abituati a non sono abituati a fenomeni tutti gli anni ma sono abituati comunque a calciatori che siano all'altezza e questo purtroppo a volte non lo è stato però c'è un nome iconico c'è un nome iconico che hanno accostato a Lecce anzi lo accostano molto spesso perché dicono forse un grande pupillo di Corvino e poi non è mai esploso Montiel Montiel è stato preso dal Mallorca se non erro per un milione o due milioni di euro due milioni di euro devi sapere che dei due milioni di euro un milione se l'ha intascato il procuratore il calciatore era di grandissimo talento bravo di grandissimo talento classe 2000 molto forte e il problema di Montiel che si è trascinato negli anni è che è rimasto così cioè dal punto di vista fisico non è mai fatto una trasformazione e questo guardate è un grande peccato perché il calciatore dal punto di vista del talento era fenomenale ma gli ultimi calciatori che Corvino ha portato a Firenze sono Blaovic per esempio che poi abbiamo visto che fine ha fatto il portiere che poi oddio ho un voto di memoria totale che è andato poi Drongoschi Drongoschi sicuramente ma c'è un altro portiere che poi è andato in Francia Neto forza Neto La Font La Font Bravissima La Font La Font è un altro Drongoschi è un altro Milenkovic che chiaramente è ancora nella Fiorentina cioè ci sono tanti calciatori che sui quali tra virgolette commisso e compagnia stanno reggendo la squadra perché ce ne sono e Braviss Chiesa sono tutti calciatori che poi insomma hanno reso molto in termini di plusvalenza quindi bisogna dare atto a Corvino per esempio su Braviss di aver pescato un talento fenomenale mi dà fastidio quando sento che Braviss non è niente che non tocca palloni che non fa gol che deve dare di più nella Juventus mi fa male perché Braviss è un fenomeno fenomeno io sono dove andare ho detto cose così brutte ah ok tripletta al Benevento a voi fa piacere no non lo so però Benevento non è una diretta rivale però comunque dovete sapere che io sono grande simpatizzante del crotone fin da quando ero bambino quindi ci capiamo comunque sì ho una maglia della Fiorentina a casa però io sono appassionato quindi ho della Fiorentina Napoli Venezia però Filippo la Fiorentina quella di la Juve non penso della Juve assolutamente no va a riuscire a Fiorentina perché c'erano gli sconti del Black Friday però non entriamo nello specifico Stefano vai no io so io ascoltavo Matteo intanto ciao Matteo ciao Stefano è la prima volta diciamo che ascolto dal lato Fiorentino la storia di Pantaleo a Firenze in realtà noi l'abbiamo sempre sentito raccontando quelle che sono le storie che lui ha vissuto però lo spaccato che hai raccontato tu si avvicina molto al suo perché in realtà lui dice io a Firenze sono stato bene entrambe le volte ovviamente nella prima è evidente i risultati che abbiamo raggiunto nella seconda un po' meno però il lavoro fatto da Corvio nel corso del tempo si vede ancora oggi cioè tra virgolette vivete del lavoro fatto da Corvino un po' di tempo fa ti volevo dire una cosa che adesso non so se hai seguito anche o segui il Lecce anche dal punto di vista delle giovanili della primavera e quant'altro per come il Lecce sta organizzando il settore giovanile ci vedi delle delle similitudini con quanto fatto a Firenze e soprattutto ti dico non so se anche qui conosci la figura del dottor Vergine ai denti della Fiorentina quanto cioè quanta similitudine c'è tra l'attività fatta a Firenze da Pantaleo nel corso degli anni e quella che sta facendo in questi anni invece qui a Lecce dal punto di vista del settore giovanile lui Stefano lavora sempre così lavora coltivando quelli che sono i talenti del vivaio intesi come provenienti magari anche dal settore giovanile che non fa tutta la trafila dai pulcini ai giordienti in poi arrivano poi agli elevi nazionali e in primavera quindi quello sicuramente poi Corvino è molto bravo a inserire via via nel corso degli anni all'interno del settore giovanile degli elementi che portino dell'esperienza del talento della mentalità del carattere per fare crescere il settore giovanile è molto bravo in questo tipo di ricerca grazie agli osservatori è molto bravo a cercare calciatori che magari possano anche costare leggermente in più rispetto ad altri ma che poi possono alzare il livello è bravissimo con gli allenatori perché gli allenatori per lui chiaramente sono tutto ma li ha sempre scelti in base al gioco che fa la prima squadra e poi fonda anche quello che è il settore giovanile però devo dire che da questo punto di vista e voi a Lecce ragazzi lo sapete benissimo da tantissimi anni come lavora Pantello Corvino io ricordo gli anni in cui veramente a Lecce venivano fuori dei fenomeni ma dei calciatori fenomenali cresciuti nel settore giovanile che si affermavano e poi andavano in giro ma cioè c'è un certo palio di Bocino perché a Firenze non ha fatto poi quello che avrebbe dovuto fare però se avesse mantenuto le aspettative a Lecce era un giocatore fortissimo a 18-19 anni quindi per citarne uno e ce ne sono almeno altri dieci mi dispiace Andrea perché Bocino a Firenze alzando diciamo le proprie ambizioni e tutto quello che è ha perso un po' la testa cioè dal punto di vista del mentale si perse un po' io mi ricordo che Bocino arrivò a Firenze se non erro che non aveva neanche 18 anni se non sbaglio forse appena compiuti era quella età lì era gennaio però ti posso sì bravo era gennaio del 2005 possibile ragazzi e se poi Gordino arrivò nel 2005 sì sì perché poi Gordino arrivò a Giuseppe esatto esatto lo portò prima a Firenze ha nata tra l'altro negativa per la Firenze cioè anche incappò anche in un'annata molto negativa ma ricordo che la prima richiesta di Bocino appena compiuti 18 anni fu una macchinona incredibile e no la ricordo benissimo la ricordo benissimo perché perché no perché poi il fattore mentale fa tanto cioè è fondamentale però Bocino cioè anche quando poi non riuscì ad affermarsi io parlai con Gordino mi disse guarda Matteo guarda lui era veramente forte la Fiorentina ha speso tanto perché era veramente forte non perché io alzai il prezzo ma perché era esplosivo era esplosivo aveva un tiro pazzesco no no è vero c'era il cartellino di Valdez là dentro in quella cifra quella trattativa ragazzi ci sono troppe cose da chiedere a Matteo io gli faccio una carrellata di cui una la chiede Paolone che ricorda di Mencucci che è da noi amministratore delegato no vabbè dai ragazzi è amministratore delegato anche a Firenze è amministratore delegato e ti posso dire Sandro Mencucci è una persona straordinaria dal punto di vista umano e anche dal punto di vista lavorativo non mi sconvolge che Corvino l'abbia con sé perché Mencucci non gli puoi dire niente bravissimo è una persona sembra che parli come se avessi un rendiconto dietro ma non c'è personalità serietà competenza e quindi penso che sia un valore aggiunto a parte le battute non lo dico perché ripeto degli interessi perché non lo sento più da mesi ormai però è uno che dal punto di vista anche amministrativo è perfetto prima di liberarti tu che ne pensi del Lecce e secondo te sei italiano fra Conference e Lecce rischi la panchina cosa ne penso del Lecce penso che Corvino abbia impostato la squadra come al suo solito quindi una squadra con un po' di esperienze ma soprattutto con calciatori come quello là davanti che possono sorprendere possono essere delle rivelazioni non ci ho parlato a Mercato in Corso forse più tardi e mi parlò di quell'attaccante velocissimo che avete voi e mi disse che lui l'aveva preso esattamente o forse si sa si la seconda che ha detto si sa esatto si sa scusatemi e mi disse che lui l'aveva preso esatto si sa mi disse che lui l'aveva preso esattamente perché si aspettava che il campionato del suo Lecce fosse di rimessa cioè fosse dell'attesa dell'avversario e poi ripartire in velocità e mi disse guarda questo è un calciatore che magari sottoforta non è neanche fenomenale però è uno che mi va via con una velocità impressionante io ho bisogno di questo io ho bisogno di uno che mi vada via che mi riparta con grande rapidità e velocità e poi mi disse comunque è un calciatore che secondo me si farà e l'altra cosa che ti posso dire è che la Fiorentina gioca domani contro gli scozzesi di Yers in Conference League e deve assolutamente vincere per blindare il secondo posto e provare a derivare primo nel girone a poi Lecce e se non erro dopo a l'Inter in casa sono tre sfide soprattutto le ultime due quelle con Lecce e Inter che sì possono contare molto per il Vincenzo Italiano perché nonostante tutti i discorsi che abbiamo fatto se lui non riuscisse tra Lecce e Inter a fare almeno tre punti so che è difficile però insomma non riuscisse a fare tre punti penso che sarebbe seriamente a rischio guarda Matteo Andrea l'altro giorno mi ha detto ti ho portato il miglior giornalista di Firenze addirittura e io ho detto ma come fai a dire il miglior giornalista di Firenze se nemmeno conosci gli altri però io adesso senza conoscere gli altri ho anche questa consapevolezza io qualcuno qualcuno lo conosco Matteo lo ci lo ho letto lo ho letto quindi diciamo non lo conoscevo personalmente e mi sono fatto questa idea poi ovviamente non li conosco tutti però Matteo sicuramente è un grande professionista grazie Andrea Matteo Matteo non so cioè anche nelle sporci queste notizie nel raccontarci la storia di Firenze di Gordino di Legge mi imbarazzava in modo coinvolgente ma anche nello stesso tempo alla mano cioè come se ci conoscesse da tempo in realtà sì vabbè ci mancherebbe ragazzi ognuno racconta racconta la storia con passione immagino lo facete anche voi ma voi siete al via del mare lunedì certo certo becchiamoci io ci sarai si è chiaro Matteo se le fa tutte tutte in caccia in Italia in Italia e in Europa il giovedì ho visto delle foto quindi ragazzi le pubblica spettacolare spettacolare questa cosa e l'inviato è così se mi dicono devo andare a pizzichettone è giusto è giustissimo quanto pagherei per andare in Scozia venite con me la prossima trasferta oltre il dopo Lecce oltre il campionato è Riga in Lettonia chi vuole dire si aggrega facciamo un pulmino a Riga in Lettonia sì a Riga in Lettonia sì chiaramente Andrea il titolo della Frentina se vincesse a Riga quale sarebbe tutti in Riga no? è facilissimo i deschisti impazziscono lì Riga Riga Fettia Riga ce ne sono un pochino a Lecce quale potrebbe essere il titolo Corvino mi mette in ginocchio no oddio la rivincita di Corvino con Viola magari è più facile il colore comunque contatta Corvino contatta Corvino sì sì iscrivo iscrivo i ragazzi di Lecce mi hanno detto che anche loro vogliono andare in Lettonia in Europa ma ma gli iscrivete a Corvino via Whatsapp sì ci sentiamo a volte risponderò a volte risponderò è l'arcobaleno la risposta è l'arcobaleno quella è la risposta standard di Vantello l'arcobaleno fa schiantare fa schiantare ragazzi comunque comunque a parte le battute come l'avete visto voi bene Corvino carico ma ti dico che alcuni collaboratori con i quali magari abbiamo dei contatti più stretti ci hanno detto che è il Corvino più attivo e più carico di sempre incredibile ed è a fine l'arriera perché poi è l'ultima ora è l'ultimo lui l'ha definito l'ultimo volo quando è arrivato a Lecce l'ha definito l'ultimo volo quindi diciamo la ciliegina sulla torta dopo una carriera incredibile e mi hanno detto che lo hanno visto nell'ultimo mercato questo qua della Serie A carico come non mai perché ovviamente lui vuole salvare la squadra della società vuole lasciare poi io non sono così convinto lui ha ancora due anni di contratto non sono così convinto che tra due anni smetta perché se sta bene assolutamente continuerà fino a quando starà bene però adesso lui vuole mantenere la categoria perché poi il primo anno è l'anno più difficile poi se riesci a salvarti il primo anno riesci a manare un pochino a dare continuità però guarda che è una storia incredibile e verrà fuori lunedì il fatto che la Fiorentina comunque a Lecce si gioca molto va bene del campionato delle ambizioni eccetera dopo la figuraccia con la Lazio ma non solo e dall'altra parte ci sia Corvino cioè un direttore generale sportivo che bene o male è stato accompagnato alla porta da commissio da Barone insomma se c'è un momento in cui Corvino si può prendere la rivincita è incredibilmente lunedì poi lui dirà che non gli interessa sì va bene certamente però Matteo lo sai lo sai che su quest'ultimo passaggio mi ricordo che diciamo da da terze parti senti che praticamente lui diciamo a Firenze con una società diversa della valle non ci sarebbe mai stato questo era quello che si diceva all'epoca quando arrivo commisso e in realtà io un po' cioè gli ho creduto perché secondo me aveva un rapporto con i della valle troppo intenso troppo intenso erano legatissimi sia con Andrea che con Diego della valle ma con tutta quella che davevi licenza tu hai citato Mencucci Vergine tutta quella che era la dirigenza da allora erano molto molto uniti ed è vero lui senza quella proprietà se ne sarebbe andato via però quando poi ci fu da lasciare e da fare il passaggio di consegne tra della valle e commisso so che lì non si sono lasciati benissimo ecco mettiamola mettiamola in questo modo sai quando sei alla fine magari cerchi una buona uscita cerchi un contratto cerchi di chiuderlo bene lì sono sicuro che non si sono sono sicurissimo perché lo so che non si sono lasciati bene e quindi quando dico che lui può prendersi una rivincita non nei confronti della Fiorentina chiaramente ci mancherebbe lui ha un pezzo di cuore a Firenze però sai come funziona nel mondo del calcio se uno può renderti un favore tra virgolette alla prima occasione te lo vuole rendere ecco chi è il giocatore più forte del Lecce no no da come me l'ha parlato Corvino sì sì non posso dire altro l'ha detto te no no tra due o tre anni mi ha detto un fenomeno quindi devo dire lui almeno poi si va a riprendere la puntata di questa puntata qua e guardate Rovellini tre anni fa diceva era un fenomeno spopola sul web si va ovunque così è facile è così Filippo prima di chiudere volevo riedere a Matteo Matteo per domani prevedi un turnover da parte di italiano oppure se la gioca con la migliore formazione possibile sì fai la domanda diretta chi gioca a Lecce vuoi sapere o meglio o meglio mi dici giocherà io c'è virgola c'è speranza di vincere quindi è quella tu di pensare guarda noi siamo noi siamo famosi per far risuscitare allora no fermati Firenze Firenze è la prima in classifica Lecce può essere la seconda Firenze è la prima in classifica per far risuscitare i calciatori che sono alla prima presenza in Serie A all'esordio non hanno mai segnato non segnavano a quattro lustri Firenze è in assoluto la prima però ti posso dire che domani farà turn over sicuramente e penso che a Lecce si potrà ripresentare con Jovic qua a me che è in forma penso sempre a Lecce dico a Lecce che secondo me per esempio domani terrà in panchina ancora una volta González e lo aumenterà a Lecce perché è un calciatore che è forte e che non può continuare a far panchina va bene che c'è il mondiale però forse nel senso cioè si possono anche smaltire gli infortuni in vista del mondiale e poi penso che andrà con Amrabat chiaramente perché è squalificato scusatemi è squalificato in campionato quindi no Amrabat ci sarà lì Mandragora in mezzo in mezzo al campo e Barak che secondo me giocherà a Lecce e poi eh sì Cotellola questa Saponara gioca a Lecce e quell'altra Cotellola no secondo me a Lecce gioca davanti con Jovic Kwame e González e Saponara no Saponara no e Venuti secondo me no perché a Lecce li mette Dodó Dodó sulla destra con penso Milenkovic e quarta se sta bene e a sinistra Milaghi e in Porta Terracciano questa potrebbe essere la formazione di Lecce a centrocampo Barak Mandragora Mandragora perché Amrabat è squalificato Barak perché secondo me a questo punto lo rimette e lì se la giocano uno tra Buonaventura e Duncan ti salutano dicono leggetemi in chat sono un amico di Dovellini per favore Michi 19 grande allora Michi 19 che è un ragazzino che interviene con me in radio che saluto un ragazzo che io allenavo perché faccio l'allenatore delle giovanili e mi ha detto di dirvi che il miglior giocatore del Lecce è Banda è vero vabbè questo non poteva sapere perché quando incontro il Dordino gli ha detto si sei bravo si sei si sei si sei amici che ci vedete in te che ci fate lo screenshot e registrate questa si sei è fenomenale questo da 2-3 anni vale 40 milioni io l'intervento dell'ospite era fra le 10 e le 10 e 20 però io tirerei fino a mezzanotte ma dobbiamo chiudere mezzanotte nota anche l'ottimo l'ottimo no il set sul quale sto girando spettacolare mi sono divertito tantissimo ringrazio gli abbonati che appena hanno visto Matteo grazie a tutti grazie a tutti per averci seguito grazie a Matteo per essere stato con noi ciao Matteo ci vediamo ci vediamoci a Lecce ciao Matteo certo ciao ragazzi una buona serata ciao Matteo curiosità di fine serata per Filippo raccontaci la storia del pallone alle tue spalle le firme sono leggiatori che ho incontrato no questo pallone l'hanno dato lo scorso anno con Lecce proprio io l'ho firmato io l'ho firmato sono la firme di Stefano Sozza Andrea Sperti dallo legittimo questo l'hanno dato lo scorso anno comunque adesso potete fare una foto così fatti i contagi a fine a fine a fine a fine tutto fate i contagi io con la maglietta della Fiorentina però io ho detto che c'ho la c'ho la maglietta della Fiorentina di Simeone Simeone che venne portato da Corvino che a Firenze non ha fatto sfraceli no in chiusura io non sono pronto per Barak che torna che è male vuoi mettermi a piangere Barak poi tra l'altro è molto molto legato a molto legato no per se poi no no ma oltre alla piazza anche proprio al presidente perché loro anche nelle due stati successive anzi nelle tre stati successive alla tua partenza poi hanno hanno passato i giorni insieme sui social erano molto attivi quindi ci sarà questo ritorno anche Saponara appunto ho detto Matteo Saponara non dovrebbe almeno giurare dall'inizio venuti difficilmente vedere il campo però Barak sì sarà un colpo al cuore è stato sei mesi ma sono stati sei mesi intensi poi con il covid giravano i tre giorni quindi l'abbiamo vissuto parecchio in quella stagione in chiusura live reaction UEFA Champions League io non ho seguito nulla adesso scopro i risultati in diretta Rangers Liverpool 1 a 4 dai ci sta Leverkusen porto 0 a 3 sorprendente però ci può che l'Inter sta vincendo a Barcellona in che senso pazzesco questa cosa quanto? Inter 1 a 2 il Barcellona era passato in vantaggio l'Inter è vera la cosa che le hanno hanno proibito sì ai tifosi dell'Inter di andare di portare le sharp bandiere dell'Inter assurda sì ma follia follia vabbè Pilsen Munchen Bayern 2 a 4 ci sta Sporting Lisbona Marsiglia 0 a 2 e Conte vince 3 a 1 contro il Francoforte l'Inter sorprendente è stata bella questa live mi sono divertito grazie per averci seguito oggi eravate in crescita c'era ancora più gente di quanto c'era la scorsa volta c'era più entusiasmo vi siete abbonati in tanti e PLN Show torna mercoledì prossimo che non ci sarà la Champions League e faremo il pianone però noi ci vediamo in diretta venerdì anzi vi vedete in diretta con Vittorio e poi post partita il lunedì ciao a tutti ciao 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 ciao